Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione del Tg10, pagina politica in apertura del notiziario. Alle prossime governative del centrodestra non parteciperà l'avvocato Lucio Greco. Per l'esponente della lista civica Un'altra Gela ci sono gruppi di potere con i quali non intende avere alcun tipo di rapporto e fa anche i nomi. Dunque Greco correrà da solo per la carica di sindaco alle amministrative. Alle governative invece parteciperanno Massimiliano Falvo di Forza Italia, Bartolo Scrivano e Gioacchino Pellitteri. Sentiamo Greco ai nostri microfoni. Lucio Greco, lei più volte ha sostenuto e ha ribadito che avrebbe partecipato alle governative del centrodestra. Oggi non è più così. Per quale motivo? La mia adessione a partecipare alle cosiddette governative è stata sin dal primo momento condizionata al verificarsi di una garanzia per me irrinunciabile, la condivisione dei programmi. Ebbene, durante gli incontri non solo non è venuta fuori una sola parola sui programmi, né c'è stato un concorso sulle idee o sui progetti. E non poteva essere diversamente perché purtroppo non mi sono dovuto confrontare solo con i partiti, ma ahimè con dei gruppi di potere che chiaramente mi hanno creato delle grosse difficoltà. E capite bene che a quel punto la mia scelta non poteva essere che non potere più o non volere o non potere partecipare più alle primarie. Ma quali sono questi gruppi di potere? Carmelo Ferrara e Orazio Truffolo, che da sempre sono stati dentro le pieghe del potere. E adesso lei correrà da solo con le sue liste civiche? Io correrò con le mie liste civiche, con un progetto condiviso, aperto sempre, come ho detto, alla città e al territorio, a difesa e a tutela dei cittadini, come ho sempre fatto e non ora e nel momento della campagna elettorale. Aggiungo che la mia storia, il mio trascorso non ha nulla a che vedere con certi personaggi. La mia storia mi porta ad andare e ad allearmi con persone che possono anche essere dell'area moderata, che chiaramente sono coerenti rispetto a quello che è il mio trascorso, le mie battaglie e le mie idee. Ma in tutta sincerità, lei si tira fuori perché ha avuto paura delle governative? Io non ho avuto paura delle governative. Io ho avuto la paura di perdere la mia credibilità quando, ripeto, mi sono dovuto trovare gente che rappresenta vecchi poteri e vecchie logiche della politica che io ho sempre lottato e combattuto. Il mio progetto di costruire un'altra Gela è incompatibile con certi personaggi con i quali non ho nulla a che vedere. Con tutto il rispetto dal punto di vista personale, politicamente siamo sempre stati lontani mille miglia. Anche a costo di perdere voti, ma la mia credibilità e la mia dignità sono al di sopra di ogni cosa. Mentre la città soffre la sete, il sindaco destina denaro pubblico ad autobotti private per consentire l'approvvigionamento idrico. Le dighe che per carenze tecniche versano a mare l'acqua accumulata e le case a secco sono la cosa assurda che questi politici accettano da anni senza porsi domande. L'acqua è un bene raro, è vero, ma ci pare davvero incomprensibile che dopo anni di amministrazione la classe politica gelese non si sia mai chiesta perché l'acqua è presente ma non arriva nelle case dei cittadini. Noi gelesi paghiamo bollette salate alla società Caltacqua che gestisce in privato un bene pubblico prezioso. Eppure questo bene ce lo fa vedere con il contagocce. Lo afferma in una nota il Movimento 5 Stelle che punta il dito contro la classe politica che sinora ha amministrato la città. I politici che oggi dichiarano l'emergenza idrica, scrive il Movimento, hanno scelto un gestore privato che doveva risolvere problemi ma la situazione è sotto gli occhi di tutti. L'acqua non arriva nelle case e quando arriva non può certo definirsi potabile. Il gestore dice che l'acqua è potabile e la vende come tale mentre dai nostri rubinetti quando arriva esce fuori un liquido giallastro e maleodorante. I grillini esortano il gestore idrico a rispettare quanto previsto dal capitolato d'appalto relativo al servizio. Il Movimento 5 Stelle di Gela parlerà con i cittadini della questione acqua in un gazebo informativo che sarà allestito sabato a partire dalle 18 in piazza Umberto I. L'amministrazione comunale di Gela è vigile sul consorzio che gestisce il servizio di refezione scolastica in città. Il bando di gare e tutte le norme vigenti sono rispettate. Lo dice l'assessore comunale all'istruzione Giovanna Cassara a seguito dell'Assemblea delle lavoratrici che si è svolta lunedì scorso alla Filcams CGL. L'esponente della Giunta dice no allo sciopero minacciato dalla sigla sindacale. Sentiamo. Da parte dell'amministrazione c'è stata un'attenzione particolare. Ecco perché mi piace anche chiarire delle inesattezze che sono state dette a proposito della presunta omessa vigilanza nei confronti del rispetto delle norme contrattuali da parte della ditta giudicataria del servizio perché da parte nostra a seguito delle lamentele del sindacato abbiamo immediatamente convocato alla presenza del sindacato la ditta stessa per chiarire le relative problematiche. È stato un incontro sicuramente infruttuoso ma a seguito di questo è stato mio dovere diffidare la ditta al rispetto delle condizioni di cui ha il capitolato d'appalto attraverso anche la consegna dei contratti. Contratti che erano stati sottoscritti alla presenza del sindacato ma che proprio materialmente non erano stati consegnati. A seguito di questa mia diffida ho addirittura convocato un'altra riunione alla presenza di tutte le lavoratrici e della ditta e in questo caso la ditta ha provveduto diciamo alla consegna dei contratti. Un'eventuale interruzione, un'eventuale sospensione o un ritardo nell'erogazione del servizio avrebbe comportato ovviamente un'inattività delle lavoratrici. Il servizio verrà garantito fino alla fine del contratto che è previsto al 30 giugno. Dopo invece che cosa accadrà? Ci sarà una proroga? Ci sarà un bando? L'anno scorso abbiamo garantito il servizio nel periodo della vacazio, diciamo così, della gara con una proroga ma chiaramente poi dovevamo attivarci perché tutto venisse svolto in maniera trasparente attraverso la procedura dell'incanto della gara che era più garantista dal punto di vista amministrativo. Ancora due precisazioni Assessore che riguardano alcune certificazioni e il numero delle lavoratrici assunte. Il numero dei dipendenti o meglio delle dipendenti che sono sempre le stesse perché noi abbiamo preteso che ci fosse la continuità per quanto riguarda il servizio delle dipendenti è rimasto invariato, sono sempre 69, tanto quanto lo erano nell'anno scolastico precedente. Anche questa inesattezza va corretta così come quella relativa alle attestazioni HACPP che riguardano sia le derrate alimentari con riferimento alle quali noi abbiamo la documentazione che attesta l'ottemperanza da parte della ditta a questa condizione essenziale diversamente il servizio non sarebbe partito e per quanto riguarda anche la formazione del personale. E in merito al servizio di rifezione scolastica i giudici del TAR di Palermo hanno detto sì al ricorso presentato dai responsabili della società Le Palme fino allo scorso anno impegnati nella gestione del servizio. Le presunte anomalie sono state sollevate dai legali dell'azienda trapanese che aveva comunque preso parte alla gara d'appalto aggiudicata alla fine al consorzio palermitano Glicina e l'amministrazione comunale si legge nella sentenza e ha illegittimamente ritenuto attendibili le giustificazioni in quanto non ha tenuto conto del disposto dell'articolo 335 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende del settore turismo in materia di cambi di gestione relative ad appalti. Tra le contestazioni mosse dalla società Le Palme c'era proprio la riduzione del 30% degli stipendi tabellari fissati a livello ministeriale per i lavoratori del settore. Nessuna adeguata dimostrazione scrivono ancora i giudici in ordine alle ragioni che rendevano possibile una compressione dei costi del personale pari al 30% in presenza dell'obbligo di utilizzo dei dipendenti della precedente affidataria che non fruivano di agevolazioni è stata fornita dalla giudicataria la cui offerta avrebbe pertanto dovuto essere giudicata non congura. In questo modo, stando ai magistrati, le altre aziende impegnate nella gara d'appalto sarebbero state sfavorite rispetto alla giudicataria. Trattasi di modifiche significative, concludono i magistrati, rispetto all'offerta in gara che avrebbero dovuto indurre la stazione appaltante a non ritenere adeguatamente giustificata la stessa. I giudici hanno riconosciuto il diritto della società Le Palme ad ottenere un risarcimento da anni fissato al 5% del valore residuo dell'appalto. Adesso ci occupiamo del sequestro operato dalla DIA di Caltanissetta a Milano di un'impresa in odor di mafia appartenente ad un gelese. Vediamo. Sequestro di una società con sede a Milano del valore di 700 mila euro lo ha eseguito questa mattina la direzione investigativa antimafia di Caltanissetta in esecuzione di un decreto emesso dal tribunale del capologo di Seno sezione misure di prevenzione. La società impegnata nella realizzazione di appalti pubblici appartiene all'imprenditore gelese Alberto Cammarata 45 anni. Già nel novembre del 2014 la DIA aveva sequestrato a Cammarata ritenuto affiliato alla famiglia di Cosa Nostra gelese riconducibile al boss Giuseppe Piggio Madonia società immobile conti correnti per 3 milioni 500 mila euro. Con i due provvedimenti di sequestro i magistrati hanno provato come l'imprenditore fosse a disposizione ed in rapporto d'affari con l'associazione mafiosa di Gela tramite società a lui riconducibili e responsabile di avere destinato alle famiglie di Cosa Nostra ingenti disponibilità finanziarie in cambio di interventi finalizzati ad imporre forniture di inerti. Secondo quanto ricostruito dall'attività di indagine tutto ciò ha consentito all'imprenditore di acquisire attraverso la forza di intimidazione del soddisfatto mafioso una posizione dominante di esclusivo controllo nel settore nevralgico delle forniture e del trasporto dei materiali impiegati per la realizzazione di opere pubbliche e private. Nel gennaio del 2014 sempre su proposta del direttore della DIA era stato sequestrato l'intero patrimonio immobiliare ed imprenditoriale del valore di circa 3 milioni di euro al fratello di Camarata Francesco Antonio 54 anni ritenuto dagli inquirenti anche lui vicino alla famiglia di Cosa Nostra gelese. A Gela aveva garantito un investimento da 500 milioni di euro per un impianto di bioetanolo all'interno dell'ENI. Lui è Guido Ghisolfi, 58 anni, vicepresidente della multinazionale Mossi e Ghisolfi. L'industriale è stato trovato morto nella sua auto a Carbonara Scrivia in provincia di Alessandria. A provocare il decesso un colpo di fucile sparato a distanza ravvicinata con un'arma regolarmente denunciata. Non ci sarebbero dubbi che si tratti di suicidio. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Tortona. Figlio di Vittorio, il re de polimeri. Guido Ghisolfi aveva invece puntato sulle energie alternative. Audizione oggi a Caltanissetta della Commissione Nazionale Antimafia. Sentiamo. La Commissione Nazionale Antimafia è arrivata a Caltanissetta per sentire i vertici delle forze dell'ordine in mattinata e nel pomeriggio i magistrati della DDA e i vertici degli uffici giudiziari nisseni. La commissione è presieduta da Rosin Bindi e composta da altre dieci tra deputati e senatori, tra i quali anche Claudio Fava, vicepresidente, è giunto in città per appurare la situazione della criminalità organizzata, anche alla luce delle recenti vicende giudiziarie che riguardano il presidente della Camera di Commercio Antonello Montante. Lo ha detto Fava, incalzato dai cronisti, prima di entrare. Rientra nel giro delle DDA che noi stiamo facendo. Caltanissetta mancava e poi perché ci siano buone ragioni anche di attualità giudiziaria perché Caltanissetta sia un luogo di attenzione particolare da parte nostra. A parte il fatto che poi sono competenti per l'inchiesta sui processi per le stragi. Il rifaimento è all'indagine nella quale è coinvolto il presidente della Camera di Commercio? Anche quello. Grazie. Non ha voluto dichiarare nulla la presidente Rosin Bindi al suo arrivo in prefettura, subito detto parlerò in conferenza stampa alle 19. Tra i componenti della commissione a Caltanissetta anche Roxaria Capacchione del PD, giornalista sotto scorta per aver denunciato gli affari della Camorra sulle pagine del Mattino di Napoli e Andrea Vecchio, imprenditore antimafia, uno dei primi a denunciare, oggi sanatore. La donazione del sangue è un gesto volontario gratuito, periodico e anonimo in quanto il sangue è spesso indispensabile in occasioni di gravi traumi e incidenti nel primo soccorso, in numerosi interventi chirurgici nei trapianti di organi, nelle anemie croniche, nelle malattie oncologiche e in molti altri casi. Questo è il messaggio lanciato dall'ADAS di Gela e volontari della pubblica assistenza procivis protezione civile diretti da Luca Cattuti in un incontro che si è tenuto all'interno della sala convegni lo bianco della struttura di via ossidiana. Nel corso dell'incontro il neo presidente dell'ADAS, Senzio Emanuello, ha illustrato con grande entusiasmo l'operato del suo predecessore e quanto di importante l'ADAS mette in campo. Sono stati riaperti termini per la presentazione dell'istanza per il sostegno economico al familiare di soggetto affetto da sclerosi laterale amiotrofica. L'istanza deve essere presentata presso il protocollo generale del comune di residenza entro e non oltre il 30 marzo prossimo per il semestre gennaio giugno e dentro e non oltre il 30 settembre per il semestre luglio dicembre. I modelli per la presentazione sono disponibili presso gli uffici del settore servizi sociali e sul sito istituzionale di ciascun comune. Per il comune di Gela sono disponibili presso gli uffici del segretariato sociale in Viale Mediterraneo al numero 27. Ci fermiamo c'è la pubblicità tra poco. Restate con noi. Bentornati studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Si terrà il prossimo 7 marzo nel locale di Contrada Canicasse a Caltanissetta la Assemblea dei Testimoni di Geova. Il tema che sarà affrontato è Continuiamo a cercare la giustizia di Geova. L'ingresso è libero. Il programma avrà inizio sabato alle 9.40 e si concluderà subito dopo le 16. Il Movimento dei Forconi nuovamente sul piede di guerra per l'ennesima iniziativa di protesta contro le scelte politiche a discapito del mondo agricolo. 3.000 trattori sono infatti già pronti per manifestare all'Expo 2015 e quanto ripetito dai leader del Movimento nel corso di una conferenza svoltasi a Verona. Un'alleanza tra agricoltori siciliani e quelli del resto d'Italia che si sentono tagliati fuori dal mercato internazionale che chiedono tutele per il loro settore duramente colpito dalla crisi economica ma anche dall'imo agricola. Un grido di indignazione contro la contraffazione del made in Italy e lo stilicidio delle aziende lasciate sole a combattere una feroce crisi del comparto agricolo. Allora noi siamo sul piede di guerra non perché siamo contro i prodotti italiani ma a tutela dei prodotti italiani. Oggi assistiamo alle lobby che usano il nome italiano con i prodotti all'interno le materie prime prodotti fuori dal nostro territorio. Questo l'abbiamo da sempre detto al governo nazionale, ai governi regionali. È un problema, è un tasto che non vogliono affrontare forse perché stretti nelle lobby o stretti nelle mani di Convinduscia. Assistere oggi all'esplodo 2015 quando gli agricoltori italiani andranno a fare solo gli spettatori in tutto questo scenario io credo che sia completamente vergognoso e bisogna esternarlo all'esterno questo falso made in Italy. Il governo italiano in primis oggi deve occuparsi di chi produce. Oggi le produzioni italiane assistiamo a uno sfacello nelle aziende, chiudono migliaia di aziende al giorno in tutto il territorio e cresce l'esportazione dei prodotti made in Italy. Qualcuno ci deve spiegare da dove vengono queste materie prime. Oggi assistiamo a un altro sfacello dell'agricoltura. Le aziende agricole sono chiamate a pagare l'Imu sui terreni. Una tassa iniqua, ingiusta e senza qualsiasi privo di fondamento perché prima devi dare una redditività al mondo agricolo e poi è giusto che sulla redditività si pagano anche le tasse. Ma se oggi avere un appezzamento di terreno, avere un'azienda è più un onere che un guadagno, come possono pensare che l'agricoltore possa pagare le tasse? Qua ci sono complici i sindaci, i sindaci devono uscire allo scoperto, devono dire da che parte vogliono stare perché non può essere che da un lato dicono che non vogliono tassare e dall'altro lato non hanno il coraggio di ribellarsi a un sistema che gli impone di riscuotere le tasse. Davanti a questo noi credo che ci resta poco da fare perché abbiamo provato tutti i modi possibili e immaginabili. Adesso la nostra consigliata rubrica, in breve. In vista del corteo delle donne non muos previsto a Niscemi per domenica 8 marzo prossimo, sabato 7 alle 10.30 alla libreria Mondadori di Gela, il comitato non muos incontrerà le mamme e le donne non muos di Niscemi per raccontare cosa voglia dire la partecipazione al femminile. Dopo la sentenza del TAR che ha confermato le ragioni dei comitati, anche gli atti di questi giorni ribadiscono quanto viene ribadito da tempo. Il muos, si legge in una nota, può essere fermato soltanto dalla partecipazione in prima persona. È stato prorogato al 20 marzo prossimo il pagamento dei diritti annuali siae a carico dei pubblici esercizi che diffondono musica attraverso strumenti o apparecchi. Gli associati a Conf Commercio Ascom di Gela potranno ottenere una riduzione fino al 30 per cento sulle tariffe se il pagamento verrà effettuato entro la data stabilita. Il modulo per usufruire dello sconto potrà essere ritirato nella sede della Conf Commercio Ascom in via Cicerone al numero 104, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. La Triskelion Teatro del gruppo archeologico d'Italia Triskelion Gela venerdì 6 marzo prossimo alle 18 porterà in scena lo spettacolo interpretando Renzo e Lucia. L'iniziativa si terrà presso l'istituto scolastico Gela Butera. Si tratta di una rappresentazione in prose e musica con la regia di Biagio Pardo e Stefano Rizzo. L'ingresso allo spettacolo prevede l'acquisto di un biglietto del costo di 5 euro. Sono aperte le prevendite. Per informazioni e contatti 348 77 90540 oppure 328 56 37 440. L'Ufficio Agricoltura del Comune di Gela informa alle associazioni venatorie e cacciatori che il termine ultimo per la consegna dei testerini venatori è fissato per il prossimo 1 aprile. Entro quella data bisogna consegnare i testerini venatori dopo averli accuratamente compilati nel riepilogo finale per non incorrere nelle multe previste dalla legge. La consegna si effettua presso l'Ufficio Agricoltura del Comune al settore istruzione ambiente in Viale Mediterraneo numero 41. Avranno inizio il prossimo 16 marzo i corsi di formazione per addetti e preposti montaggio e smontaggio ponteggi. Il corso che avrà una durata di 26 ore si prefigge di fornire i principi fondamentali sulla sicurezza sul lavoro e di consentire a preposti e addetti l'apprendimento di tecniche teoriche pratiche adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di montaggio smontaggio e trasformazione. Lo comunica a casa artigiani del golfo di Gela. C'è l'informazione cinematografica e Selma, il film in programmazione al cineteatro l'antidoto di Macchitella a Gela. Sono tre gli orari di rotazione della pellicola 17 e 30, 19 e 30 e 21 e 30. Partirà oggi la stagione di Cabaret alle 21 e previsto lo spettacolo di Gennaro Calabrese. Con lo spettacolo è tutto anche per questa edizione. Grazie per averci seguito fin qui. Vi ricordo che servizi e notizie sono disponibili sul nostro sito internet all'indirizzo web www.tg10.it. Vi ricordo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.